Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com iPhoneItalia Hot News oggi torna al suo format originale, ve l'avevo preannunciato nel video della scorsa settimana dopo i vari focus su iPhone 6 e tra l'altro ragazzi, lo dico subito perché me l'avete fatto notare in tanti ma la casualità non mi è stata favorevole, nell'ultimo focus su iPhone 6, quello in particolare della data di presentazione della data di rilascio, ho praticamente cannato la data ma in realtà ragazzi quel video è stato fatto un po' di tempo fa e per un semplice motivo perché c'è stata l'estate di mezzo quindi anch'io sono andato al mare, anch'io sono andato in vacanza e quindi non era ancora uscita e non era ancora così sicura la data del 9 settembre per la presentazione di iPhone 6 come in realtà poi sarà, quindi l'iPhone 6 sarà presentato praticamente tra meno di una settimana quindi già la prossima settimana avremo nuovi approfondimenti dedicati proprio all'iPhone 6 ma oggi in questa puntata di iPhone Italia Hot News andiamo a vedere quelle che sono state le notizie più importanti della settimana relative al mondo Apple Ben ritrovati ragazzi, allora partiamo subito dalla notizia più importante della settimana ma forse addirittura la notizia più importante dell'anno perché è l'ufficialità dell'evento Apple del 9 settembre non è un evento qualsiasi ma è l'evento in cui Apple presenterà al 98% l'iPhone 6 ora l'evento in sé non è ancora ufficialmente dedicato all'iPhone 6 Apple ha semplicemente pubblicato la data dell'evento 99 2014 e ci ha scritto in basso che avrebbe voluto dirci di più avrebbero voluto dirci di più in realtà non l'hanno fatto quindi non abbiamo l'ufficialità che si tratti di iPhone 6 però se consideriamo che negli ultimi anni l'iPhone 6, l'iPhone in generale è stato sempre lanciato a settembre tra settembre e ottobre questo evento dovrebbe proprio accogliere il nuovo smartphone di Apple e farlo vedere a tutto il mondo in ogni caso è da capire se ci sarà un nuovo iPhone 6 e se sarà uno solo sarà quasi sicuramente il 4.7 pollici o se anche il 5.5 pollici riuscirà ad essere presente in questo evento ancora c'è chi dice che potrebbe esserci un terzo prodotto Apple lanciato nel corso di questo evento che potrebbe essere il tanto atteso e chiacchierato iWatch tuttavia si dice anche che l'iWatch potrebbe essere presentato a settembre il 9 settembre ma non essere pronto per la produzione di massa tant'è che questo orologio smart di Apple potrebbe arrivare ufficialmente sul mercato solo nel 2015 avvicinandoci alla presentazione di iPhone 6 nella settimana appena conclusa c'è stata anche la pubblicazione di quello che è stato definito il primo hands-on di un iPhone 6 pubblicato da Feld & Volk è un sito che sta facendo molto parlare di 6 in questo ultimo periodo e questo sito ha praticamente ottenuto non sappiamo come, non sappiamo se è stato realizzato in casa o se è stato diciamo proprio se è un prototipo ecco non abbiamo capito quale sia l'origine di questo iPhone però è un iPhone 6 perché non è un iPhone 5S o comunque un iPhone che conosciamo che connesso ad iTunes viene un attimo riconosciuto e poi il programma restituisce un errore quindi il tutto funziona correttamente o meglio non funziona correttamente però diciamo non è solo un mock-up non sono solo i componenti come abbiamo visto fino alle scorse settimane in questo caso è un vero iPhone 6 completamente assemblato tuttavia appunto non può essere acceso perché ci sono dei problemi con iOS però insomma c'è stato questo primo sguardo da vicino all'iPhone 6 visto in alta risoluzione completamente assemblato tra l'altro dopo Feld & Volk anche un secondo sito russo ha pubblicato un hands-on dell'iPhone 6 nella versione Space Gray nella versione nera e anche questo è un video in alta risoluzione che ci fa vedere molto bene le caratteristiche dell'iPhone 6 quindi ad esempio le differenze nel design il telefono è più grande il tasto power spostato la fotocamera leggermente sporgente che sembra ormai confermata e tutte le altre caratteristiche che abbiamo già visto chiaramente anche in questo caso però non abbiamo la certezza che queste informazioni, che questi video siano reali quindi come al solito prendete queste informazioni con le adeguate cautele ora in attesa del 9 settembre non manca molto e appunto vedremo di persona quello che sarà l'iPhone 6 ci spostiamo, torniamo a parlare anche di altro allora una delle notizie più curiose della settimana di cui avrete sicuramente sentito parlare è quella di un hacker, un gruppo di hacker non si è ancora capito che ha praticamente violato la sicurezza di iCloud entrando nei dispositivi di alcune celebrità, di alcuni VIP ed è riuscito praticamente a impossessarsi di foto anche un po' piccanti di alcune di queste VIP specialmente e quindi il problema oltre ad essere diciamo di carattere proprio relativo alla privacy degli utenti e anche di quelli che sono un po' più di utenti appunto sono dei VIP utenti in più Apple chiaramente ha dovuto lavorare ad un fix per questo bug di iCloud che è stato sfruttato appunto dall'hacker quindi si dice che adesso Apple si è intervenuta e abbia ufficialmente corretto questa vulnerabilità anche se comunque settando ai primi report non era poi così tanto colpa di Apple diciamo perché comunque queste celebrità avevano impostato delle password abbastanza banali nei propri account iCloud quindi chiaramente essendo in possesso di un account iCloud chiunque di noi può eseguire l'accesso con quell'account sui nostri dispositivi iOS e OS X e quindi scaricare lo streaming foto ad esempio quindi vedere tutte le foto private o meno private insomma di queste persone però appunto ora sembra tutto corretto quindi non c'è più nulla da temere l'ultima notizia di oggi riguarda l'iWatch l'iWatch che abbiamo detto potrebbe essere presentato all'evento del 9 settembre da Apple e però insomma intanto non sappiamo se sarà davvero un iWatch o se sarà un iArmband, un qualcosa insomma che non sia proprio un orologio ma magari un braccialetto ecco e oltre questo c'è da capire il prezzo di questo dispositivo se insomma il mercato degli indossabili si sta posizionando su una fascia di prezzo compresa generalmente tra i 150 e i 300 euro si dice che l'iWatch di Apple potrebbe arrivare addirittura sui 400 dollari che poi diventerebbero praticamente 400 euro stando al cambio non proprio regolare alle varie tasse che abbiamo in Italia quindi 400 euro per uno smartwatch a meno che non mi faccia davvero il caffè per me sono tantini considerando che come sapete ho il mio Pebble Steel che ho pagato comunque tanto perché sono 279 dollari se non erro o forse qualcosina in meno non ricordo però comunque sono già tanti per quel genere di prodotto quindi se Apple avrà intenzione di posizionare a quel prezzo l'iWatch sul mercato speriamo insomma ci auguriamo che il dispositivo sia veramente così interessante abbia caratteristiche davvero davvero utili e che ne giustifichino appunto il prezzo bene ragazzi anche per oggi è tutto questo appuntamento di iPhone Italia Hot News finisce qui io vi ringrazio per aver guardato questo nuovo video e noi ci risentiamo la settimana prossima ossia la settimana di iPhone 6 ciao a tutti se ti è piaciuto questo video clicca mi piace condividilo su Facebook e iscriviti al canale se non l'hai già fatto queste tre cose ci aiutano a crescere e a migliorare per proporti sempre nuovi video dedicate all'iPhone di Apple